ehi la eccoci qua con il nostro bitcoin update di solito quando faccio la live il venerdì poi magari anche sabato abbiamo detto talmente tante cose che si può anche evitare mettiamola così di fare bitcoin update però in questo caso un po particolare perché già il venerdì stesso quando ho fatto la live stavano succedendo cose anche perché ho detto magari è comunque il venerdì classico ultimo venerdì del mese e può succedere che ci sia un po di volatilità però non è detto poi che sia direzionale bisogna capire un attimo cosa succederà da qui diciamo a lunedì già il fatto che comunque il fine settimana sta succedendo la stessa roba che ho detto ieri cioè anche se comunque già c'è stato un segnale di debolezza dal mio punto di vista il fine settimana è difficile che crolliamo è più probabile che lateralizziamo e infatti cosa sta succedendo? stiamo lateralizzando come al solito però oltretutto diciamo che anche dopo la live c'è stato un altro scarichetto che poteva diventare pericoloso soprattutto se andavamo a perdere i minimi allora iniziamo a perdere magari pesantemente tutto e arriviamo a un piccolo sciacquone in realtà poi è stato l'ultimo scarico vedete poi ci siamo assestati in lateralità in lateralità comunque anche in un punto in cui più o meno stiamo rientrando diciamo nel range quindi per ora secondo me c'è da preoccuparsi sì perché la preoccupazione è giusta perché comunque qui insomma abbiamo fatto un tentativo di ripartenza rimangiato tutto e adesso comunque in effetti siamo ancora più o meno sotto resistenze se vogliamo dirlo perché vedete qui è da qui che parte la candela quindi non stiamo andando oltre bisognerebbe almeno diciamo riconquistare questa zona detto questa la discendente è comunque più o meno stata riconquistata e ora addirittura un po' ritestata però capite fine settimana siamo comunque tendenzialmente più al bearish che al bullish e adesso facciamo un'analisi veloce anche magari di time frame più alti perché comunque i time frame più alti non sono male quindi preoccupazione sì ma già paura no mettiamola così è giusto essere preoccupati ma avere diciamo paura no anche perché ho ricevuto già adesso i messaggi oddio adesso si crolla tutto torniamo a 30k insomma cioè se c'è quel scenario negativo visto ciclico potrebbe anche essere per carità ma da qui adesso a essere così preoccupati per me no così confident di dire facciamo un altro giro di rounding di shitcoin e roba no perché non mi sento confident ovviamente siamo già abbastanza investiti sono già abbastanza investito quindi no però da qui a dire oddio adesso si crolla in maniera devastante solo perché ha fatto un po' di candele rosse no perché comunque questo è il nostro range di top che comunque alla fine arriva da qui vedete queste candele con lo spike queste candele sotto con lo spike che è stato difeso alla fine guardate appena toccato è stato rimangiato appena toccato è stato rimangiato quindi questo è il range statico diciamo da questa linea qua questo è il range nostro statico mettiamo in un altro colore ecco e quello dinamico anche alla fine non è stato perso quindi per ora per me non c'è vedete perso e anche qui con anche con gli spike e con le chiusure su quattro ore abbiamo fatto solo degli spike sotto e abbiamo tenuto e la direzionalità è anche rialzista viceversa qui abbiamo avuto un po' di scarico e adesso vediamo meglio però allora se io alzo il time frame e vado sul settimanale per esempio perché adesso ho anche pulito il grafico si può fare sta roba ero tutto scarabocchiato dovevo andare guardate che settimanale non è male eh cioè guardate che roba è comunque sporco qua vabbè però guardate qui abbiamo fatto una ripartenza abbiamo finalmente per la prima volta vedete che qui c'era comunque tutto un trend discendente e io dicevo io lo lavorerò come se fosse un beer market fino a prova contraria la prova contraria ce l'abbiamo avuta con questa prima freccia questa è la prima prova contraria che qualcosa stava cambiando però come al solito una rondine non fa primavera quindi poteva anche fare la porcheria e poi andare giù perché le volte fa così no arriva scende e poi fanno la porcheria però invece qui c'è stata una seconda conferma diciamo la seconda freccia gialla che no qua il trend effettivamente è cambiato e non solo poi abbiamo iniziato a rompere diciamo la discendente più ripida la discendente più ripida la discendente più morbida capite e siamo andati all'attacco dei top all'attacco dei top come sapevamo benissimo avevamo un sacco di posizioni e sui 69,375 proprio che vale avevo anche un target a 69,975 però nei fatti quando eravamo qui abbiamo scaricato tantissima roba perché ci stava che per un po' fossimo arrivati e quindi il ritracciamento è arrivato quindi senza stare lì a guardare candele di 5 minuti, 1 ora quella roba il settimanale non è messo male perché qui adesso comunque c'è scarabocchia andiamo a prendere questo vedete la candela settimanale ha fatto comunque il ritracciamento è arrivato a chiudere diciamo queste inefficienze ha fatto tutto uno spike per ora ovviamente per ora perché poi magari la prossima capito parte lunedì e te la trovi qui ovviamente per questo poi va visto lunedì però per ora bene non male cioè 30k moriremo tutti per ora assolutamente no da grafico ad esempio settimanale guardiamo il giornaliero anche il giornaliero in fin dei conti si vede che c'è un attimino di di scarico però guardate anche qui spike che tiene cioè nel senso per ora tiene se andavamo sotto questo minimo adesso quando stava scivolando pesantemente alla fine di venerdì allora era un casino perché andavamo sicuramente a chiudere questa inefficienza come minimo e poi si vedrà però andare direttamente già a chiudere questa inefficienza vuol dire direttamente aver finito completamente in impulso rialzista ed è un po' presto questa è sempre stata è un po' presto per questa cosa però ciclicamente parlando però poi capite cioè prima va l'analisi tecnica volumetrica eccetera poi ci facciamo con l'analisi ciclica ci facciamo ci facciamo magari tipo una mappa mentale perché poi qual è il punto dell'analisi ciclica che adesso voglio anche far vedere questa cosa non è tanto anche la predittività in sé no come tanti la usano solo come predittiva si è l'unica analisi veramente un po' più predittiva però ovviamente ha un largo ampio raggio statistico di errore perché prevedere il futuro ovviamente ha un ampio margine di errore però ci dà una sorta di prevedibilità cioè tentativo di proiezioni così ecco però il punto è anche sul passato come avete visto che è anche settato il nuovo tool il punto è questo si dice sempre no classico scriviamolo trend is your friend no is your friend until the end bla 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 ma quando è l'end e quando è partito cioè il punto è questo un trend ad esempio c'ha degli swing no eh prima c'era oh vabbè questa roba adesso io non la non la seguo gli alert perché siamo troppo indecisi e non vado a fare dei trade che magari sono pericolosi quindi non li seguo magari c'era un trend di bassista a un certo punto questo cambia ad esempio qui no vedete cambia però innanzitutto come fai sapere se è veramente cambiato se è una finta perché a volte fa così no quindi non lo sai e qui hai un primo change of character si chiama change of character qualcosa sta cambiando però che è della serie alert qualcosa sta cambiando forse il trend sta cambiando però poi ci vuole questa roba qua per cambiare il trend no e allora dopo è cambiato però anche il punto è questo trend is your friend until the end qual è l'end qual è l'inizio perché tu devi identificare bene questi swing devi sapere se è l'inizio di qualcosa o la fine di qualcosa eccetera per capire questa roba qua c'è è abbastanza utile l'analisi ciclica perché ad esempio da qui a qui uno dice è finito perché è finito perché alla fine è un ciclo mensile ciclo mensile che poi è mezzo trimestrale quello che volete qui poi e ve lo ripeto più volte i mensili sono più rari alle volte ci sono mezzi trimestrali trimestrali però capisci che è un qualcosa che è iniziato poi è finito e qui è qualcosa che è iniziato e poi finirà eccetera quindi perché dico questa cosa per capire ad esempio qui è qualcosa che è iniziato e poi sta già girando male quindi qualcosa che di solito inizia e poi gira ed è qui sta andando verso la fine e poi finirà e rinizierà qualcosa oppure semplicemente è qualcosa che è ancora in atto eccetera questo è anche il capire il swing no perché quando sei a posteriori e guardi il grafico così tu dici è facilissimo da qui è partito quello dopo ma quando tu ti trovi ad esempio qui ti trovi o qui o qui o qui o qui devi capire ma questo è un qualcosa che è finito è iniziato qualcosa che è l'inizio di qualcosa la fine di qualcosa adesso mi spiego meglio questa situazione guardando il settimanale no ad esempio qui teoricamente se noi giriamo a ribasso se noi giriamo a ribasso quindi prendiamo il mensile questo se fai cicli mensili perché ripeto non è neanche detto perché da qui in poi è partito un biennale e da qui in poi si è chiuso probabilmente l'ultimo trimestrale inverso quindi da qui può essere partito anche dei cicli un po' diversi adesso potremmo avere insomma dei tempi diversi però rimaniamo nel punto se quindi qual è il punto che se questo fa dei cicli mensili no quindi da qui c'è un inizio e da qui c'è una fine e da qui c'è stato un nuovo inizio il fatto che adesso giriamo qua e dice sì ma ci sta che andiamo a chiudere i 63k all'inefficienza e poi si parte eh però non è così semplice perché se noi adesso giriamo a ribasso fino a 63k e chiudiamo l'inefficienza vuol dire che questo ciclo qua sta girando tutto a ribasso e fino alla fine sarà a ribasso questo è il senso quindi sto swing può darsi che non è che arrivi qui e dopo diventi subito bullish no fino alla fine può darsi che rimani messo male questo è il senso quindi devi capire l'inizio la fine con i movimenti e i tempi per questo certi ribassi magari possono essere fisiologici normali altri sono pericolosi vediamo se siete riusciti a capire adesso ci capiamo ancora di più guardando la total ethereum e bitcoin per far capire una roba nel senso che qui su bitcoin abbiamo il nostro ciclo settimanale molto lungo quindi da qui è molto probabilmente da questa freccia è partito quasi sicuramente mettiamola così il ciclo settimanale no il problema è questo che se da qui è partito il ciclo settimanale e quindi è partito qualcosa questo qua quindi qui c'è un inizio e qui c'è una fine e da qui c'è un nuovo inizio se questo inizio poi gira male questo è tutto uno swing che fino alla fine va a ribasso capite perché non finirà questa cosa finché non c'è la fine quindi qui è un nuovo inizio parte male e poi ci sarà una nuova fine e la fine non arriverà qua capite non è difficile che arrivi da queste parti e si va quindi no è pericoloso perché se adesso noi andiamo verso il ribasso fino alla fine molto probabilmente andremo a ribasso capite il senso quindi se da qui c'è un inizio e da qui c'è un inizio qua inizia inizia va un po' su poi va male e son cazzi perché allora questo swing poi probabilmente andrà tutto a ribasso quindi tutto il settimanale andrà a ribasso e quindi è pericoloso e quindi è sti cazzi sì ma è fisiologico che arrivi qui chiaro però è fisiologico che arrivi qui magari alla fine di questo e alla fine di quello grosso capite ci sta ma non adesso cioè se lo fa adesso è pericoloso perché allora non si arriva neanche solo qua se si va anche magari peggio capite il senso della roba quindi su bitcoin abbiamo questa cosa qua è partito qualcosa è girato un po' male però è ancora tutto andato a rotoli beh se io guardo invece la total e ethereum ethereum vabbè fa cagare come price action ma magari forse si riprende vedete che qui la situazione è un po' diversa perché sostanzialmente da qui dove bitcoin è ripartito è qui nei fatti su ethereum non è partito niente no perché vedete questo swing qua questa non è una ripartenza è un niente cioè è solo una lateralità e poi ha fatto un altro scarico quindi questo è da considerare tutto un uno e quindi se è da considerare tutto un uno non è qualcosa che è partito e sta girando a ribasso probabilmente poi magari è partito talmente scarico e scarso vogliamo vederlo però probabilmente fa parte della stessa zuppa quindi che ci sia stato questo minimo qua o il minimo ancora qua nei fatti non cambia la situazione cioè ha solo fatto un altro minimo e ha allungato il ciclo ribassista che però fa parte sempre dello stesso swing capite non che è un nuovo swing che è partito ed è andato male e la stessa cosa è più o meno sulla total perché anche la total nonostante ha fatto questo scivolone da qui non era mai partito niente qui ha solo fatto un ultimo rimbalzino lateralità e si è chiuso o un altro sciacquoncino quindi anche qui questa roba diciamo da qui fa parte della stessa zuppa secondo me quindi se fa parte della stessa zuppa noi non abbiamo indicazioni che per forza si crolla però anzi abbiamo indicazioni probabilmente opposte tra l'altro probabilmente opposte perché se questa è la stessa zuppa ormai siamo arrivati come tempi come modi come movimenti e tutto ha una possibilità che ora invece parta qualcosa di nuovo questo qualcosa di nuovo poi non sappiamo se andrà a fare nuovi massimi o meno però magari c'è un rally nuovo poi magari è scarso e va giù capite ecco questa cosa invece su bitcoin è già un po' più fastidiosa perché perché qui abbiamo già l'evidenza che è partito qualcosa di nuovo chiamiamolo così un nuovo ciclo settimanale ha andato su e ha fatto sta roba però non ha rotto i minimi eccetera questo ancora secondo me è da valutare perché comunque ci sta che ci faccia sta valutare volatilità qua perché comunque la venerdì fine del mese eccetera ci sta comunque che faccia la solita lingua di buyer che tra l'altro ultimamente la fa sempre no ultimamente la sta facendo proprio sempre a tutti i cicli in tutti i time frame perché questa è una sorta di lingua di buyer vedete anche questa è una sorta di lingua di buyer a livello più ampio ovviamente non più più ristretto tutta questa è una lingua di buyer in sostanza più o meno lui non ha fatto un doppio minimo però anche qui questa è sostanzialmente una sorta di lingua di buyer continua a fare questi movimenti ma persino nei cicli giornalieri all'interno dei settimanali continuava a farlo guardate anche nei cicli più brevi guardate cosa fa va giù quindi qua le abbiamo già sgammate tutte queste cose se siete su tele se mi seguite ogni giorno le avevo sempre dette ad esempio quando eravamo qua dicevo guarda questa è molto probabilmente la lingua di buyer fa così a parte perché ormai le sgamo tutte quindi anche questa era una linguettina di buyer verso il giornaliero chiude e va l'ha fatta di nuovo anche qua anche qua piccolina ma di nuovo vedete che fa spesso ultimamente le fa tantissimo sta roba di continuo quindi se le fa nei cicli più piccoli nei cicli più grandi può farsi che lo faccia anche nel ciclo medio diciamo nel settimanale cioè che ci sta che adesso fa una lingua di buyer merdosa perché tra l'altro qui siamo in corrispondenza con il mezzo settimanale inverso tra l'altro lingua di buyer merdosa e va lo stesso quindi finché non perdiamo questi minimi io non sono preoccupato cioè sono preoccupato ma non sono spaventato ecco mettiamole così quindi per ora comunque cioè si sa che bitcoin è così cioè fa sempre questi movimenti un po' fastidiosi no non è facile tradare non è come tradare lo standard and poor cioè lo standard and poor fa le sue robette tranquille magari fa i suoi scalini up and down e ti fai le tue robe ma è che anche lui insomma ha la sua volatilità ovviamente però non vedete qui quando va su va su praticamente come pilotato però però quanto fa uno standard and poor è chiaro che ad alto tentativo di rendimento c'è comunque un alto rischio è alta volatilità poi standard and poor capitalizza migliaia di miliardi bitcoin comunque ne capitalizza un migliaio di miliardi cioè quindi è chiaro che è più volatile no e fa queste porcherie quindi io per ora non sono ancora spaventato preoccupato sì perché comunque questa se non è una lingua di buyer è solo un nuovo inizio che sta iniziando male ovviamente perché se è un nuovo inizio che sta iniziando male come lo scopriremo beh è semplice adesso non è più una lingua di buyer se tempi ragionevoli andiamo ancora qua giù eh allora è lingua di buyer magari questo magari quello magari quell'altro no dai abbiamo la conferma abbastanza ragionevole che stiamo perdendo terreno e molto probabilmente qual è il problema che che allora molto probabilmente andremo veramente a ribasso per almeno tutto il settimanale qual è il problema ulteriore che andando a ribasso per almeno settimanale vuol dire che questo ciclo se continua a seguire i cicli mensili che vede che faceva sempre cicli mensili no è di tutto un ciclo mensile tutti i cicli mensili sono quindi se continua a fare le stesse le stesse robe che abbiamo visto fino adesso farà di nuovo probabilmente un ciclo mensile ma se noi siamo qui alla partenza e siamo siamo a questo minimo a 13 giorni questo significa che facciamo da questo punto in poi ancora 27 giorni di ribasso cioè capite tanto 17 17 giorni di ribasso che è relativamente tanto quindi se sono tutti questi giorni di qua di ribasso e gira già ribasso la struttura è pericoloso è pericoloso perché poi non è che poi magari ci fermiamo qua magari scendiamo molto di più capite quello è il senso per cui sono preoccupato però finché non succede non sono realmente spaventato perché in realtà anche come tempistiche dell'inverso del nostro top di trimestrale inverso in teoria dovremo avere più tempo anche qua per fare un altro top perché da questo top qua che comunque diciamo che è una zona partiamo dal top top o dall'ultimo se noi partiamo dal top top siamo a pelo guardate 27 qui 23 è troppo corto però siccome ha fatto praticamente un lower high simile alle volte è magari double top come se fosse un double top parte da qui 27 veramente corto però ne abbiamo uno da 27 questo qua 27 27 giusti quindi non è totalmente improbabile quindi qui fa la struttura di top gira e va però in realtà se prendiamo ad esempio dal top qua e prendiamo un 30 giorni in realtà abbiamo ancora spazio 30-34 l'ultimo poi è durato di più poi questo è stato quasi una normalia e poi via è più normale questo vedete è durato 33-34 quindi ci starebbe ci starebbe che adesso in realtà invece tenta un altro attacco un altro attacco e poi se vogliono girare girano qua ci sta tutto anche perché abbiamo visto anche tutti i mensili anche quelli ribassisti e anche ribassisti quindi anche se questo qui poi va a ribasso grave come abbiamo visto dello Standard & Poor nel 2004 adesso lo riguardiamo velocemente anzi riguardiamolo prima così dopo e lo Standard & Poor 2004 che era messo identico al nostro Bitcoin oggi sia come i tempi delle elezioni sia come il top a marzo sia come la discendente tutto identico sputato come una roba assurda identico poi bisogna vedere se poi farà la stessa cosa identica questo è il nostro Standard & Poor 2004 guardate che storia guardate cosa fece il Standard & Poor 2004 qui e noi siamo qui proprio qui guardate che cosa ti combinano dopo anche nello Standard & Poor le combinano ste robe ti fanno la pesca sotto sembra che tutto crolli e poi elezioni vedete 25 ottobre fino a ottobre poi qui si riprende il prezzo poi si sa come vanno le elezioni e poi parte comunque il trend che ci ha portato fino a diciamo la bolla del 2007 perché poi praticamente è andato tutto su e basta quindi qui dove siamo qua dopo 6 mesi ad aprile che fa comunque il retest prima o poi fa il retest però poi comunque è tutto un salire pieno male swing ma tutto un salire fino all'ultima accelerazione galattica qua ecco quindi se se anche fossimo strabulli c'è da aspettarsi sta roba e tra l'altro se noi guardiamo le tempistiche però è ovvio che i cicli sono un po' diversi chi lo sa però se guardiamo anche le tempistiche in effetti qui sale solo per 10 giorni e poi gira ribasso fregando tutti no? non è non è improbabile sta cosa eh cioè per questo io dico sono preoccupato però siccome lì è andata così non è che per forza debba essere identica adesso però guardate la struttura come è simile no? tutta sta discendente primo swing secondo swing sembra che ormai si va a double top poi qui invece accelerano a ribasso e se fa come quello standard in pur là qui invece di andare a fare un altro up accelerano a ribasso e arrivano qui da qui partono il cannone cioè la struttura se fa identica è questa alla fine sono tutti più o meno frattali e sempre le stesse robe accadono in maniera simile no? quindi ci sta che faccia proprio una roba simile perché poi ci stanno queste strutture ci stanno sempre perché questa sarebbe una struttura che è una sorta di anomalia chiamiamola così del primo ciclo classica del primo più o meno trimestrale che l'abbiamo già avuta anche qua su bitcoin la classica che l'ho fatta vedere mille volte l'anomalia del primo ciclo vedete anche qui come fa qui fa tutto un movimento di swing rialzista poi fa un ritracciamento parte top che dura pochissimo gira a ribasso e ti va sotto tutti questi minimi pesca e poi però parte a cannone quindi anche adesso può fare tranquillamente una roba del genere può fare assolutamente una roba più o meno simile perché le fanno queste robe a ripartenze se noi prendiamo questa roba qui quindi anche se succede poi comunque bullish perché poi da qui girano a rialzo se fanno una roba del genere però vabbè intanto però fa un massacro prendiamo sta roba e mettiamola qua dov'è vabbè spostiamola a mano tanto è qui eccola qua e da qui c'è la fine del del bear market come ci fu la fine del bear market qua comunque anche qui siamo sul top si nota meno ma è la stessa zuppa c'è una discendente ci sono dei vari minimi discendente ci sono dei vari minimi tripli minimi qui più o meno doppi tripli minimi vedi uno due tre poi parte parte però tutti sono bullish alla prima gamba quello è il senso tutti sono sempre stra bullish quindi prendiamo questa roba e la adattiamo vedete tutti sono stra bullish alla prima gamba cosa succede qui c'è il change of character eccetera tutti stra bullish al primo ritracciamento entra al mondo ci sta perché è cambiato qualcosa al primo ritracciamento o alla rottura di questo entra al mondo ormai si va è così che funziona no ormai si va tutti stra bullish è fatta 100k su e invece siccome i mercati sono dei fottuti bastardi cosa succede che qua ti fanno la finta e liquidano tutti liquidano tutti perché qua sono tutti liquidati praticamente quelli che o hanno gestito male o non sono usciti bene in stop a zero eccetera qua li liquida tutti vedi perché gli stop sono o qui o qui liquidati tutti ultima liquidata generale quindi ti liquida tutti i long e poi ti liquida tutti i short perché comunque anche qui qualcuno si sarà messo short ti liquida tutto ti fa come una sorta di reset chiamiamolo così un reset di tutte le situazioni speculative da un lato dall'altro tabula rasa e poi parte un trend nuovo quindi non è assolutamente da escludere sta roba succede spesso e quindi per questo io sono preoccupato però finché capite questa cosa non succede cioè non perdiamo sta roba la cosa più normale che potrebbe succedere è che questa cosa magari succede lo stesso perché magari succede lo stesso però ci fa un altro app quindi magari fa un'altra roba così top e poi succede lo stesso magari succede lo stesso però siamo più impostati su tentare un altro top anche come tempistiche dal mio punto di vista però attenzione che questa cosa è un classico quindi un classicissimo quindi non cioè ci sta che la facciano assolutamente perché questo è il primo ciclo l'anomalia del primo ciclo è sempre questa e non è che è un'anomalia così inventata che c'è proprio una spiegazione logica e quindi adesso se giriamo subito a ribasso praticamente i 63 secondo me non tengono questo è il punto perché abbiamo un sacco di tempo di ribasso e c'è il rischio sciacquone sciacquone diretto e si ritorna qui magari anche sotto i 59 che hanno girato si ritorna a pescare tra i minimi praticamente vai dalla parte alta del range alla parte bassa fai tutto un reset di tutte le posizioni incastrate long short resetti tutto tabula rasa quelli che erano long vengono liquidati quelli che erano short guadagnano fino a un certo punto finché non si girano velocemente vengono liquidati anche loro e poi si parte con un nuovo mercato sano ed equilibrato questa è la logica di base di questi movimenti e sono assolutamente sul piatto sono assolutamente sul piatto però prima di fasciarci la testa su qualcosa che non è ancora successo andiamo sul breve sul breve secondo me c'è ancora la possibilità di che sia questa nel brevissimo una piccola lingua di buyer continui comunque con un nuovo trend riazzista e poi magari te lo fanno lo stesso sta roba per questo sono preoccupato e per questo io comunque dicevo anche se bla 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 to the moon cica 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 la cioè quando arriviamo se arriviamo se comunque ci riparte arriviamo a questa zona qua io può darsi che inizia a vendere comunque tutto momentaneamente vendo tutto faccio cassa perché so che potrebbe assolutamente succedere una roba del genere vieni rigettato dal mega range perché alla fine questo è il nostro mega range no questo è un mega range cioè dopo che comunque non arrivi nella parte alta dopo un sacco di tempo qual è la probabilità che comunque vieni respinto anche in maniera grave anche solo per fare proprio una porcheria è molto alta e poi si va perché comunque questa roba qua se arriviamo qua in alto comunque non è toccata da tempo queste sì questa è mediana sì questa l'abbiamo toccata adesso ma questa è da una vita che non la tocchiamo quindi che arrivi qui e fai uno scivolone ci sta assolutamente tra l'altro abbiamo la questione solita delle elezioni bla 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 quindi capite il senso della questione detto questo ripeto di nuovo per essere chiaro finché comunque non perdiamo questi minimi o comunque adesso continuiamo a essere veramente scarichi e si rivede un po' di situazioni tipo vabbè vedi che c'è il giornaliero fa così inizia a essere lunedì inizia a far così puoi anche anticiparlo short tra virgolette però la situazione logica è che se non perdiamo questi minimi non succede niente perché poi qui vai a chiudere l'inefficienza sì ho capito però c'è arriva un primo scivolone e poi magari ne arriva un altro un altro ancora perché poi si gira tutto a ribasso tutto il mood del mercato si gira a ribasso fino alle elezioni e si gira già troppo in anticipo a ribasso e fino alle elezioni non ti riprendi questa è la logica secondo me di base è difficile che fai uno scivolone adesso in anticipo così e poi ti ripigli subito rimane il mood bearish fino a fino a che non ti capisci meglio tanti qui poi vengono escono perché qui comunque c'è un sacco di come al solito liquidità scivolone e prima di rimettersi long allora a sto punto qui il mercato va così con l'aspetto valuto eccetera queste elezioni e quindi è probabile che se fai uno scivolone adesso te lo tieni e magari diventa anche peggiorativo perché poi oltretutto si innesca la debolezza per la chiusura del mezzo trimestrale trimestrale che dir si vuole non lo so comunque si o sono trimestrali o sono mezzi io li chiamo mezzi perché 60 giorni non è un trimestrale però poi si innesca subito la debolezza del mezzo trimestrale quindi se tu fai lo sciacquone qua puoi anche fare rimbalzo però ormai centralmente vicino alla chiusura del mensile del mezzo trimestrale che è più probabile che poi fai un altro scivolone no? si innesca già la debolezza perché comunque adesso siamo su questo mezzo trimestrale o un trimestrale che si vuole siamo nella seconda parte della seconda parte quindi se è molto bullish nella seconda parte della seconda parte c'è comunque il top e poi la discesa se è abbastanza o barra relativamente bullish e si innesca la debolezza qua comunque abbiamo fatto il top della seconda parte però si innesca già la debolezza andiamo giù fino alla chiusura di questo macro ciclo questo è il punto è molto probabile che sia così quindi se si innesca la debolezza adesso non ci si ripiglia subito e se si innesca la debolezza adesso succede come è successo un po' nel 2023 uguale per le altcoin perché nel 2023 per le altcoin tra l'altro anche lì in corrispondenza con cosa con il classico attacco di israele il 7 ottobre quello che è qui mi sa che era il 7 ottobre esatto vedete il 7 ottobre c'è stata quella roba lì e si è andati giù e si è fatto vedete più o meno guardate tra l'altro anche il movimento fa il top poi qua sembra che riparta tutto invece fa un lower eye e fa lo scivolone e dopo è ripartito guardate anche qui questa situazione quanto è simile un po' più in piccolo però è la stessa perché gli stop loss sono qui o qui ed è andato sotto tutto sui minimi capite come è la situazione fanno sempre le stesse porcherie e poi quindi qui tanti erano short e poi ha liquidato i long ha liquidato i short ed è partito ok quindi vedete come fa spesso queste robe quindi qui se fosse siamo in questa situazione qua vedete fa tra l'altro non saremo proprio neanche in questa situazione qua perché guardate cosa fece tra l'altro guardate non l'avevo visto guardate qui noi siamo qui in realtà noi siamo qui vedete la storia noi in realtà siamo qui perché fa il top fa la linguettina di Bayer e comunque parte perché da qui è partito qualcosa però qua comunque poi non va e fa questa porcheria quindi se noi prendiamo questa roba qui invece siamo proprio più improntati su un altro tentativo di top come ho detto su un altro tentativo di Bayer tentativo di top e poi giù così siamo più improntati su questo o così o così qui magari secondo me dal mio punto di vista se prendiamo quel passato lì noi qui eravamo più impostati su fare un altro top e poi giù ma come al solito alle volte succede qualcosa di esogeno la catalyst di quella roba finta inventata di Hamas l'ho detto l'ho detto roba finta inventata di Hamas ha fatto crollare tutto io l'ho detto però poi ognuno crede a quello che gli pare va bene e tanto stiamo facendo analisi di bitcoin non analisi sui complottismi geopolitici detto questo quindi qui ovviamente è stata la catalyst dal mio punto di vista se non succedeva quella roba là andavamo magari a fare un altro top qua e poi faceva la stessa roba magari con un prezzo magari un attimino un altro un po' più su roba del genere ovvio poi c'è magari c'era già l'idea di fare questo c'è una catalyst esterna a succedere due o tre giorni prima però l'idea è sempre quella l'idea è sempre quella perché comunque l'idea è quella però magari c'è già qualcosa che dà lo stimolo prima e allora vabbè ci giriamo due o tre giorni prima quello è il senso l'idea di fare questa roba c'era già quando bitcoin fece questa roba qua comunque cosa è successo su bitcoin insomma alla fine era comunque rilassista non è successo niente però se vedete qui c'è l'11 settembre qui c'è il 12 ottobre anche questo è una sorta di ciclo mensile vedete più o meno alla fine sono un po' confusi perché ogni tanto si vede bene il mensile ogni tanto no però se dopo andiamo invece a vedere cosa è successo invece la total la total è successo un disastro perché visto che comunque siamo abbastanza esposti sulle shitcoin quando fece quella roba la invece nel 11 settembre il 12 ottobre gran parte della total fece un disastro mettiamo il giornaliero se non c'è storico non lo so perché sta roba qui invece tante fecero nuovi minimi dov'è che qua siamo qui 11 settembre e qui cioè qui adesso qua la total no ma io mi ricordo tantissime fecero nuovi minimi comunque anche qui è stato molto più grave no perché qui sembrava ormai pronto a partire tutto giù molto più grave prendiamo i nostri soliti esempi di che cazzo ne so Kusama che abbiamo visto ultimamente Kusama sicuramente fece un nuovo minimo Kusama fa schifo i figuri se non ha fatto un nuovo minimo vediamo i conigli che si agitano come se vedete la total è la total magari in mezzo c'è un BNB un Solana che magari hanno ottenuto che ne so provate qui c'è il 10 settembre vedete Kusama nuovi minimi cioè nel senso non è stato piacevole non è stato piacevole Dodge non lo so prendiamo un esempio a caso Dodge cosa fece un Dodge fece pseudo pseudo no comunque un nuovo minimo rispetto al 12 settembre nuovi minimi anche se non minimi assoluti prendiamo il merdo dot merdo dot fece secondo me nuovi minimi perché fa cagare nuovi minimi di brutto qui siamo a luglio qui siamo a settembre guarda che nuovi minimi di brutto cioè questo è è un brutto scivolone perché ti trovi qua al 7 ottobre circa e ti fa un altro meno 16 e ti va sotto tutto cioè e accelera e in proporzione è stato grave un Gala prendendo nomi a caso che mi ricordo che esistono un Gala ovviamente fece un nuovo minimo nuovo minimo qui c'è l'11 settembre comunque continuava lo stesso andare giù Gala prendiamo un DYDX che era forte all'epoca secondo me DYDX all'epoca era forte poi non si sa perché è girata così male alla fine è anche utile quando c'è qualcosa di fondamentale che ha anche senso va peggio delle shitcoin sta roba non la capisco effettivamente in sto mercato non ha senso però comunque fece un nuovo minimo poi partì forte e adesso invece si è completamente massacrata non so cosa è successo comunque io sono fuori nel senso che queste cose io non me le becco però non capisco perché deve andare così male un DYDX o deve andare così male un arbitro un optimist non capisco in realtà sta roba perché se c'è un baby trump che va to the moon e loro questo mercato ogni tanto proprio non ha senso vediamo invece in generale qualche shitcoin se c'è qualche numero a doppia cifra delle nostre porcherie perché comunque c'è stato un altro per 2 ultimo aggiungiamo qua il per 2 di Budeng non è stato un vero per 2 in realtà ho fatto un più 70 80 però vi ricordate nella live di ieri ho messo un non so neanche dov'è perché ho fatto un sacco di list non mi capisco più a seconda di certe cose ho fatto delle list le ho mandate non sono tutte uguali Budeng non c'è quello normale devo proprio prendere quello perpetual eccolo qua mettiamolo nei per 2 anche se in realtà non l'ho neanche capito poi perché non l'ho fatto per 2 cioè avevo visto ero più 70 ero andato più 80 qualcosa però il trailer stop alla fine è stato un più 70 questi qui sono i nostri 5 per 2 vediamoli così per curiosità perché magari anche il primo è stato slurf però vedete slurf non ha neanche cambiato il trend in lungo periodo ma se tu l'avevi comprata qua come abbiamo fatto noi al primo segnale mi sa anche un po' prima forse il primo bottom proprio al double bottom eccetera ero arrivato praticamente a un 100 mi sa che anche qui forse non è stato un 100 pieno 90 80% ho messo un 360 ho visto il pump e ho chiuso what guardate anche questa alla fine ritornate ai minimi però vedete il punto perché bisogna prendere il posto giusto è il momento giusto perché non ti interessa che facciano per forza il moon assoluto cioè poi vuoi quella roba là perché se non vuoi quella roba là non hai capito niente però basta che facciano il primo pump primo pump 100% a casa e adesso se anche questa fallisce io non ho perso niente avete capito il senso poi c'è stata baby dodge 2 la vendetta baby dodge 2 la vendetta qui anche qui ha fatto il suo pump presa più o meno da queste parti lo metto forse anche un po' più giù perché questa mi sa che è stato un 100 pieno circa 100 adesso va scarica non lo so appunto chi se ne frega baby nero è stata più assurda perché ha fatto il 100 300% io ho scaricato solo il 100 e anzi io quando avevo scaricato non ho fatto l'avevo scaricato metà perché ero già oltre quasi 300% ho scaricato solo la parte in cui avevo investito perché insomma sembrava andasse così tutto guardate cosa ha combinato per farvi capire che vanno presa il momento giusto eccetera perché qui chissà quanti hanno comprato in fomo baby nero qua ma se tu compravi baby nero qua in fomo perché tanto ormai è partita perché to the moon baby nero la compravi da queste parti qua magari non il massimo assoluto una zona di massimo adesso ti trovavi sotto del 60% con un picco del meno 71 è l'opposto capito c'è chi ha comprato il momento giusto si è fatto magari io non ho scaricato tutto ho scaricato solo il 100% per carità adesso ce l'ho ancora dentro la parte normale però capite il senso cioè la differenza di come vanno gestite queste robe se la gran parte delle persone che anche qualche volta in live o qualcuno mi dice hai visto questo quando è che si rendono conto di baby nero quando è qua quando è che la comprano quando è qua perché fomo adesso mi va tutto il muro invece no ha fatto il pump ti torna indietro poi succederà che trovi quelle che sei in mega bull market e fanno pump pump sono più l'eccezione che la regola poi li trovi sotto cioè è di brutto perché praticamente hai perso praticamente tutto mudeng eccola qua mudeng non ho capito bene perché non ero arrivato vuol dire che l'ho presa un po' più alta perché se la prendevi qua è una botta è a 200 vuol dire che l'ho presa più alta non mi ricordo forse l'ho presa prima probabilmente l'ho presa a questo pump qua questo change of character probabilmente no perché effettivamente si poteva prendere qua il pump ha fatto anche il ritracciamento io probabilmente l'ho presa qua per questo non sono riuscito a fare il 100 pieno che poi comunque anche da qui non ho capito non mi ricordo perché non sono riuscito perché questo non è neanche il 100 va che roba dal bottom ti ha fatto che poi il bottom mai non lo prendi ma ci stava ad esempio a prenderla in questa zona ti ha fatto adesso siamo ancora al 200 ha fatto un picco del 250 quindi non ho capito perché non sono riuscito a fare il 100 per genere non mi ricordo vabbè comunque fatto sta che qualcosa ho fatto grande Boudin grande non vedo quindi comunque adesso facendo un assunto qual è il punto? il punto è che comunque il pericolo di fare questo grande sciacquone c'è assolutamente e il 63 non tiene perché alcuno diceva eh 63 è sicuro sì ma se mi va 63 adesso secondo me non tiene se mi va 63 cioè se mi va a fare un altro app e poi mi deve tornare giù 63 magari tiene perché come tempi modi ritracciamento eccetera se mi va giù adesso secondo me 63 è solo una tappa secondo me poi va più giù questo è il punto però ripetitolando comunque ancora sono preoccupato ma non sono ma non sono spaventato perché questo può essere tranquillamente nella lingua di Bayer lunedì partono forte tra l'altro lunedì anche se non è proprio l'inizio del nuovo mese siamo vicini all'inizio del nuovo mese ci sono tutte le trimestrali degli earning delle big mercato più tendente al bullish che al bearish mettiamola così quindi questo c'è solo uno sciacquone della chiusura del venerdì ultimo venerdì del mese quindi ci sta anche che sia solo questa la narrativa poi c'è stato anche questo pseudo attacco a Iran però ho avuto anche un commento ma quelli si massacrano da secoli si massacrano e io le ho anche risposto in un messaggio sta roba che adesso magari sapete cosa faccio lo mando questa roba sul telegram così ve lo apro per farvi vedere sta roba un attimo al volo che l'avevo salvato qua lo faccio così al volo così lo commento guarda velocissimo velocissimo vi faccio perdere solo 5 secondi è una cosa una chicca guardate e adesso la commento andiamo a prendere il mio telegram che l'ho messo là l'immagine così per farvi capire questa cosa dell'Iran del 7 ottobre visto che l'ho prima detto inventato per farvi capire ecco cacchio la gente la memoria corta guardate qual era il mitico titolo del primo blocco del giornale del The Times no primo blocco di bitcoin ricordate il primo blocco di bitcoin Satoshi Nakamoto mette nella prima pagina del The Times dell'epoca mettendo l'accento su questo ma qual è la copertina qual era la copertina di quel cazzo di giornale del 3 gennaio 2009 che è messa lì nel primo blocco di satoshi di bitcoin messo da Satoshi Nakamoto lui ovviamente era focalizzato su questo del second bailout for banks però è sempre la stessa zuppa che gira ogni giorno Israel prepares to send tanks on troops into Gaza sempre quella è sempre sempre quindi per dire hanno distrutto Gaza perché c'è stato il 7 ottobre ma se sono da decenni che fanno un massacro quindi capite non so la gente memoria corta era il 2009 e c'era sempre questa roba qua in prima pagina cioè allora non investiamo perché Israele si uccidano perché Israele fa il genocidio di Gaza Israele vuole andare a attaccare poi Israele Israele è messa lì come baluardo dell'occidente che fa quello che gli dicono gli Stati Uniti gli mandano le armi attacca questo attacca quello non perché c'è la morale del 7 ottobre quelle lì sono le scuse è morto Francesco Ferdinando facciamo la prima guerra mondiale ma che cazzo ne inculava qualcuno di Francesco Ferdinando cercavano solo una scusa erano già tutti pronti con le armate non è che anche qui succede quello e poi improvvisamente sono già pronti con 10.000 armate fanno gli attacchi ovunque le armi ce le avevano già perché erano lì pronti che cazzo ci inventiamo speriamo che facciano questo o lo facciamo noi capite e allora sono pronti a fare l'attacco dappertutto con la giustificazione ma erano già pronti non è che così vengono dal nulle i cararmati e i missili pronti per fare distruzione di massa bisogna avere un po' di logica nel cervello vabbè tanto poi ci mi daranno il complottista però resta il fatto che comunque è la stessa merderia sempre quindi 7 ottobre no abbiamo bitcoin qua abbiamo anche un po' i mercati il ritracciamento secondo voi erano tutti impreparati o volevano già farlo questo ritracciamento no l'hanno fatto per il 7 ottobre sì c'è stata una scusante una catalyst ma lo facciamo il giorno prima il giorno dopo quella roba là continua ad esserci ogni giorno sempre e dopo il ritracciamento guardate che cannone non è il freno un cazzo da nessuno se si uccidono là è solo una scusa quando hanno voglia quando hanno voglia di fare un ritracciamento usano una catalyst qualsiasi c'è stato questo il ritracciamento però poi alla fine era già nelle corde fisiologiche volevano già farla quella mossa no è che magari magari succede un po' prima un po' dopo e ci si aggiusta no ti tronca un po' il ciclo quello l'hanno di breve termine perché diceva cazzo non me l'aspettavo però anche loro magari diceva guarda è successa subito sta cosa invece che sapevamo che succedeva magari succedeva tra due giorni invece è successa oggi facciamo già il ritracciamento oggi cioè nel senso quello è il senso logico però ai mercati non gli frega un cazzo sta roba perché dopo avete visto cosa è successo oddio 7 ottobre guerra mondiale moriremo tutti si uccidono là è una novità Gaza ma novità di cosa dopo sono andati tutti quindi si ho capito magari hai paura dei ritracciamenti quello si però non cambia l'impostazione generale del mercato non cambia niente quella roba là ecco quindi la chicca è quella cioè prima pagina guarda caso è la cosa bella del blockchain di bitcoin eccetera che quella roba là sarà eterna è quello il bello di bitcoin quindi non guardiamo sulla filosofia che un qualcosa inserito dentro il blockchain di bitcoin sarà immortale non ci sarà capito il revisionismo pseudo walk politically correct fra 10, 5, 3 10 anni che andrà a cambiare i titoli andrà a manipolare l'informazione e quella roba sparisce per sempre per sempre tu andrai a vedere il primo blocco di bitcoin ci sarà quella pagina lì per sempre sarà immortale e lo vedrai dirai cosa è successo guarda Gaza sempre quelli capite è immortale non è un'opinione non è opinabile non è massima forse irrevedibile no è là per sempre quello è il bello di bitcoin all'interno avrai degli immortali un'informazione un wikipedia eccetera in cui metterai bitcoin magari sarà anche messa là in quel momento falsa ma anche una roba che è stata la messa falsa è comunque un qualcosa di rilevante perché hai messo un qualcosa di falso che magari con il revisionismo successivo uno dirà ah guarda perché hanno messo quella roba là che è falsa magari c'era un motivo ha comunque motivo e ha comunque una storia e sarà alla luce del sole cioè non sarà opinabile rivedibile modificabile manipolabile in futuro quella cazzo di pagina là con quel cazzo di tank di Gaza del 3 gennaio 2009 anche se non era quello l'intento perché l'intento era l'altro titolo sarà là per sempre non potranno cancellarla nessuno potrà cancellarla è un'evidenza praticamente immortale finché bitcoin vivrà e bitcoin è tendente alle mortalità tendente ovviamente nulla magari immortale a parte Dio però però è tendente all'immortalità tendente ovviamente però è la roba più mortale che abbiamo per ora in tutto l'universo forse probabilmente attenzione finché c'è l'umanità però adesso non andiamo nella filosofia però capite il senso logico della cosa quindi al di là di adesso ad entrarci su queste assurdità qui vediamo comunque ok c'è il ritracciamento ma dal mio punto di vista comunque non avremo nessuna indicazione chiara per ora secondo me fino a domenica avanzata apertura dei mercati vicino all'apertura dei futures domenica avanzata lunedì secondo me faremo roba così senza nessun senso questa roba così senza nessun senso potrebbe comunque essere positiva per le cripto perché infatti ci stanno riprendendo un po' vabbè qui ha fatto comunque hanno fatto un rimbalzo e ora si ne tiri un guardiamo che è più grosso ancora non è messa benissimo perché comunque si mega rimbalzo però è sempre lì che sarebbe quasi un setup short però dov'è che è arrivata è arrivata al bottom quindi è più probabile che se questo è tutto un movimento ti fa l'ultimo sciacquone e arriva al bottom più probabile che magari ci sia comunque una ripartenza che poi non vada da nessuna parte da uno di questi punti qua giri comunque a ribasso ci sta tutto perché comunque stiamo perdendo un sacco di terreno però è più probabile che ci sia una ripresa anche se non per forza un nuovo massimo e poi si vederà secondo me è così cioè secondo me il grafico dice così ecco perché comunque dopo che hai fatto tutta una discesa del genere e arrivi in area di botto ma anche se sei bearish è più probabile che ci sia una reazione e poi magari una continuazione più che distruggere tutto a ribasso così qui cazzo di Gaza stanno lanciando le bombe nucleari anche se arrivi qui anche se è abbastanza bearish anche se farai una reazione ma non farai il nuovo massimo è probabile che ci sia una reazione dal mio punto di vista adesso e infatti io che ho fatto anche il cambio di portafoglio tra parentesi col seno di poi pseudo sbagliato anche se nei fatti quando è che ho detto di fare il cambio di portafoglio quando eravamo in questa zona qua quindi bene o male sono diciamo in break even nel cambio di portafoglio circa perché l'ho fatta più o meno in questa zona qui quindi sono circa lì io non esco adesso aspetterò questo spero o almeno aspetterò questo se arriva questo però vedo che anche bitcoin fa fatica esco e basta soprattutto esco da ethereum perché ethereum quanto pare è proprio fa cagare questo comunque anche su ethereum se non riguardiamo era un change of character attenzione questo era un change of character tra l'altro rompe la trend rompe il massimo adesso comunque ritorna al minimo ma i minimi sono comunque crescenti e la trend è tenuta quindi è un change of character che dovrebbe essere diciamo validato come cambio trend da una rottura e la rottura di questo top qua significa arrivare fin qua su come ho sempre detto fin qua su fino al POC maestro quindi ancora questo è valido ovviamente assolutamente sì e vediamo vediamo perché appunto sono preoccupato ma non sono ancora terrorizzato spaventato che cazzo volete dire va bene video lungo e quindi chiudo subito ciao grazie a tutti Grazie.